E' slittata al 23 febbraio prossimo la prima udienza del processo scaturito dall'operazione Town Hall che nel 2013 scosse il comune di Mascari, il servizio di Maria Bella. La mancata citazione di quasi un terzo degli imputati ha causato ieri mattina il rinvio della prima udienza del processo scaturito dall'operazione Town Hall che nel dicembre del 2013 ha condotto in carcere tra gli altri l'ex sindaco di Mascari Filippo Monforte e l'ex presidente del consiglio comunale Viaggio Susinni. L'indagine avviata nel 2011 dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Giarre svela intrecci tra politica, mafia ed imprenditoria, mazzette, affidamenti diretti, speculazioni edilizie e soprattutto varianti al piano regolatore per trasformare inedificabili terreni agricoli. Questo è il meccanismo su cui, secondo la procura di Catania, si fonda quello che viene definito il sistema Mascari. Tra le accuse contestate a vario titolo anche l'aver agevolato gli interessi economici del clan Laudani tramite il referente per l'area pedemontana Alfio Romeo. Si tornerà in aula davanti alla terza sezione penale del Tribunale di Catania preseduta da Maria Pia Urso il 23 febbraio prossimo per le questioni preliminari e le richieste di prova.